E' proprio dell'assessorato di trasporto della regione di Puglia. Noi volevamo cercare di dare questo tipo di messaggio a un pubblico specifico, di quello dei ragazzi e della scuola, a un uso più corretto e consapevole del trasporto pubblico locale. Nel senso che intanto incentivarli ad usare più mezzi pubblici che privati per andare a scuola o anche andare a divertirsi, a discoteca, eccetera, che attualmente ci sono in campo tante iniziative anche da questo punto di vista. Altra cosa, specialmente poi per quello che riguarda il mondo dei treni, le ferrovie, i treni, vengono vandalizzati molto spesso, uno per quanto riguarda le stazioni, per quanto riguarda le emettitrici, un po' per i fulti, proprio solo per l'uso di vandalizzare quello che è fondamentalmente un bene tenuto. Quindi proprio l'idea di essere presenti era cercare di sessibilizzare i ragazzi a un uso consapevole dei mezzi e della proprietà pubblica, in questo caso legato alla persona. Stiamo partecipando a un concorso della MT e stiamo facendo copia di disegni di grandi maestri. Chi vince il concorso verrà stampato sugli autobus e sui treni con tanto di firma. Grazie. Grazie. Grazie.